Ciao a tutti, terza parte del video letture novembre 2017, questo novembre 2017 è stato un mese di grandissime letture, di tantissime letture, quindi vediamo di finire la carrellata delle letture con questi ultimi 5 volumi. Partiamo subito perché le cose a dire sono tante e il tempo è sempre poco. Parliamo dell'ultimo romanzo grafico di Zero Calcare, Macerie Prime, pubblicato come al solito da Baopublishing per prezzi copertine di 17 euro. Questa è la variant libreria, sono disponibili due variant, questa che è la variant libreria e una variant fumetteria con lo sfondo nero e poi la regular che potete trovare ovunque. Allora, Zero Calcare, Zero Calcare non devo dirvi io chi è, probabilmente lo scrittore di fumetti più famoso d'Italia, ma uno dei più famosi anche in Europa. Questo è il suo ultimo lavoro, è il primo di due volumi, quindi una storia che andrà a concludersi tra 6 mesi con una seconda parte, infatti è una storia che non finisce in compiuta. Di cosa parla Macerie Prime? Macerie Prime porta avanti il discorso che Zero Calcare ha iniziato con i suoi primi lavori ed è come un aggiornamento di quelle che sono le situazioni di tutti quei personaggi che gravitano intorno al protagonista che è per l'appunto Zero Calcare stesso. Tutti i personaggi di contorno, tutti i comprimari delle sue storie sono in realtà ispirati dai suoi veri, dai veri amici di Zero Calcare e dalle loro situazioni private e comunque sociali. In questo caso Zero Calcare utilizza le storie dei suoi coetanei e dei suoi amici per raccontare qual è la situazione dei trentenni in Italia, una situazione molto particolare, i trentenni in Italia si ritrovano in una situazione di spaesamento assolutamente precaria e di paura, di giustificata paura verso il futuro e verso quello che gli aspetta. Perché? Perché sono una generazione che si rende conto di non avere gli stessi diritti o comunque gli stessi privilegi che ha avuto la generazione precedente alla loro e che quindi deve fare i conti con una società che si aspetta da loro determinate cose ma che poi non gli aiuta ad averle. E quindi una generazione che non riesce a costruire un vero gruppo familiare, non riesce a realizzarsi socialmente e lavorativamente, non riesce mai ad avere una indipendenza economica reale e che quindi deve decidere tra quali sono i suoi desideri nella vita e quali sono invece delle scelte obbligate per andare avanti. È una tematica che Zero Calcare ovviamente affronta con la sua solita ironia, con una capacità di rendere buffo e interessante al tempo stesso delle situazioni che alla fine provano, hanno provato, proveranno un po' tutti. Rimando in realtà un giudizio proprio su quest'opera alla seconda parte perché in realtà qui si gettano delle tematiche ma non si chiude il cerchio, non si arriva a una vera e propria conclusione. Ci sono degli eventi scatenanti molto forti, molto interessanti e raccontati come sempre molto bene da Zero Calcare ma sono molto curioso di vedere come riuscirà a trovare una chiusa a queste situazioni e quali saranno le conseguenze di quello che succede in questo albo potremmo dire. E attendo con ansia la seconda parte che dovrebbe uscire tra sei mesi. Bene, andiamo avanti. Niccolò Magniti, Branchie, è nato di Stile Libero, questa è una vecchia edizione, di un libro del 1994, l'anno in cui è nato il sottoscritto. Con Niccolò Magniti ho un rapporto, diciamo, altalenante. Diverso tempo fa, probabilmente una decina di anni fa, ho letto Io non ho paura, come quasi tutti in Italia e non mi aveva fatto impazzire, era un libro che aveva una tematica molto forte e che grazie a quella tematica ha avuto una cassa di risonanza molto alta. Il suo recente romanzo, Anna, invece è un libro che ho detestato abbastanza, non mi è piaciuto né il modo in cui ha raccontato questa società, diciamo, distopica, né comunque il soggetto in generale. Quindi era uno scrittore da cui mi ero tenuto abbastanza alla larga negli ultimi tempi, ma ho deciso di leggere il suo romanzo d'esordio, appunto, Branchie, per questioni, diciamo, trasversali. Ammaniti scrive questo romanzo praticamente alla mia età. Mentre sta studiando all'università, sta scrivendo la sua tesi, Ammaniti studiava il comportamento dei pesci come il protagonista di questo romanzo, per l'appunto. Ovviamente, come spesso succede con i romanzi d'esordio, lo scrittore mette nel libro d'esordio le sue esperienze e la sua situazione attuale. Il protagonista, quindi, per l'appunto di questo romanzo, studia il comportamento dei pesci, costruisce acquari, quindi una professione abbastanza particolare, come è particolare tutto il tono del romanzo, molto giocato sui toni del grottesco, dell'esagerazione e, nella seconda parte, anche molto sulla demenzialità. Il protagonista, in più, ha un'altra particolarità, è un malato terminale, quindi ha un conto alla rovescia, ha una, diciamo, una scadenza. Questo fatto e anche un po' il suo carattere lo rendono un personaggio disilluso, nichilista e molto cinico nei confronti del mondo. Gli arriva una richiesta da parte di una signora che lo invita ad andare in India per costruire il più grande acquario del mondo. E lui, in modo anche quasi irrazionale, decide di accettare quella richiesta e di partire. Il libro si può praticamente dividere in due parti, la parte a Roma, in Italia, e la parte in India. Queste due parti sono completamente diverse. La prima è molto disillusa e tormentata. La seconda, invece, è molto più allegra, stravagante e assolutamente surreale. La differenza di tono, lo rivela anche l'autore stesso nella postfazione di questo libro, sta nel fatto che, mentre Amaniti scriveva questo romanzo, quindi quando è arrivato a metà di questo romanzo, lo ha fatto leggere a un piccolo editore romano, che, dicendosi interessato, gli aveva detto che lo avrebbe pubblicato. E quindi Amaniti, sapendo di poter pubblicare questo romanzo, ha scritto la seconda parte in uno stato, diciamo, di eccitazione. E tutte quelle che erano i drammi interiori del protagonista nella prima parte, diciamo che spariscono nella seconda. Oltre a questa curiosità, devo dire che il romanzo in sé mi è piaciuto particolarmente, nonostante io fossi partito prevenuto sul lavoro di Amaniti. La prosa è completamente diversa sia da quella di Io non ho paura che da quella di Anna. E è una prosa che mi piace decisamente di più, caratterizzata da frasi istantanee, da perini brevi, e da un senso di ritmo e velocità molto elevato. In più, il tema del grottesco e del surreale è una tematica che soprattutto negli ultimi tempi sto cercando di studiare, di imparare, e devo dire che in questo caso Amaniti fa un'operazione che, a detta sua, è inconsapevole, ma di satira sociale a tratti. È quindi un romanzo che consiglio assolutamente anche ai non amanti di Amaniti, perché decisamente diverso dai classici Amaniti, dall'Amaniti di Io non ho paura o da quello più recente di Anna. Andiamo avanti, sempre letteratura italiana contemporanea, Andrea Di Carlo, Treno di Panna, La nave di Teseo. Questa è la nuova edizione di Treno di Panna di Andrea Di Carlo. La nave di Teseo ha deciso di ripubblicare tutti i romanzi di Andrea Di Carlo in due tranche, potremmo dire. La prima è proprio in questo novembre, con i primi sei romanzi, e poi i successivi sette verranno ripubblicati a gennaio o febbraio, non mi ricordo. Questo è, per l'appunto, il romanzo d'esordio di Andrea Di Carlo, un libro del 1984, che segna l'esordio di uno dei più importanti scrittori contemporanei italiani, che, volenti o nolenti, che piaccia o non piaccia, è uno dei pochi scrittori di narrativa che, diciamo, sono diventati famosi o celebri. Questo è il libro che ha fatto conoscere De Carlo al panorama italiano, è un libro che Italo Calvino, poco prima della sua scomparsa, ha, diciamo, consigliato, ha ilogiato. De Carlo, poi, dopo questo romanzo, dopo i primi romanzi, ha anche collaborato con i più grandi registi, probabilmente, della storia del cinema italiano, quindi Fellini e Antonioni, diciamo che segna la nascita di uno intellettuale italiano. Treno di panna è la storia di Giovanni, che è il protagonista di questa storia, che arriva a Los Angeles, ospitato da una coppia di amici, Ron e Tracy. Ron è un sceneggiatore televisivo, e, diciamo che, non sa neanche lui qual è la sua strada. Ovviamente, la meta, diciamo, il sogno è lavorare nel cinema, ma sembra che non sia neanche così sicuro di volerlo fare. Diciamo che il suo viaggio negli Stati Uniti è più per cercare se stesso, che per cercare realmente qualcosa. Nel corso del romanzo, succederanno diversi eventi che lo porteranno a tratti lontano e a tratti più vicino da quella che potrebbe essere la sua meta finale, ma probabilmente non è neanche questo lo scopo di questo romanzo, è più quello di raccontare la situazione della generazione di De Carlo a metà degli anni Ottanta, con, diciamo, il sogno dell'America negli occhi dei giovani europei. Questo romanzo mi è piaciuto, mi è piaciuto molto, nonostante probabilmente io non sia in grado di percepire a pieno quello che poteva provare un ventenne negli anni Ottanta, perché comunque è un libro di più di trent'anni fa, e quindi lontano da me in molte tematiche, e anche forse nello stile, ma devo dire che De Carlo scrive in maniera meravigliosa, molti lo considerano pretenzioso, io invece penso che la letteratura debba sforzarsi di essere diversa da quello che troviamo tutti i giorni in mezzo alla strada, quindi uno scrittore ha forse anche il dovere morale di scrivere in modo pretenzioso, o almeno presunto tale. La pretenziosità, soprattutto in uno scrittore giovane, io credo che sia assolutamente un peccato veniale, un qualcosa che si debba tralasciare perché un giovane scrittore deve farsi conoscere, e quindi deve colpire il lettore. In questo caso De Carlo riesce a tratti a raccontare grandissimi stralci di vita in America. C'è una scena in particolare che mi ha colpito tantissimo, più o meno a metà di questo romanzo, è una sequenza di una trentina di pagine in cui il protagonista lavora in un ristorante, uno di quei grandi ristoranti americani che fanno girare i tavoli e quindi ha una grandissima clientela dove la velocità è tutto. Beh, quella scena io penso sia raccontata in un modo, direi, perfetto. Sono trenta pagine che potrebbero anche essere estrapolate dal contesto e dal romanzo stesso e pubblicate da sole come un racconto e lo considerai un racconto di altissimo livello. Quindi, se non conoscete Andrea De Carlo, non lo so se questo è il punto migliore dove iniziare, io penso che il romanzo del Zordino di uno scrittore sia sempre di base il punto migliore per iniziare a leggere quell'autore. Ok, penultimo libro. Andrei Macchine è lo scrittore, l'ho pronunciato in un modo osceno, lo so, ma non so come pronunciare il nome di questo autore. L'arcipelago della nuova vita, nuova uscita della nave di Teseo, scrittore di origini russe naturalizzato francese, uno scrittore da poco eletto nell'Accademia francese, l'organo, diciamo, di conservazione e difesa della cultura francese, un vero e proprio intellettuale, uno scrittore che nella sua carriera ha vinto il premio concours e numerosi altri riconoscimenti. Questo è un romanzo che si ambienta in Russia, nella Russia della Guerra Fredda. Il protagonista è un ex soldato, ha fatto da giovanissimo la Seconda Guerra Mondiale, tornato a casa, si è iscritto all'università, ha trovato un lavoro, ma poi, durante la Guerra Fredda, appunto, viene richiamato in servizio e gli viene affidato un compito, insieme a un manipolo di altri soldati, quello di seguire e catturare un evaso da un campo di prigionia. Questo è un romanzo che non mi è particolarmente piaciuto, è stato un po' una delusione. Non tanto dal punto stilistico, perché l'autore è sicuramente molto bravo a scrivere. Quello che mi ha reso un po' perblesso è proprio la storia in sé, l'intreccio che è quasi assente. La maggior parte dello spazio narrativo è occupato da questo inseguimento e pensavo che in questi tempi morti in cui questi soldati stanno cercando di acciuffare questo evaso, ci sarebbe stato più introspezione dei personaggi, non tanto del protagonista, che ovviamente è, diciamo, al centro dell'attenzione, come è giusto che sia, ma i comprimari li ho visti un po' a fare da tapezzeria, da sfondo, e questo non è mai un bene per il racconto, che perde anche un po' di forza a metà. Quindi, senza farla troppo lunga, è un libro che sicuramente è scritto bene, di alto livello, ma che non rientra in quello che è il mio gusto personale. Bene, ultimo libro che ho letto a novembre, l'ho letto proprio negli ultimi giorni di novembre, un libro anche molto breve, proprio per quello sono riuscito a inserirlo all'ultimo, un romanzo pubblicato da Einaudi nel 2017, e per più di tutto, di Matthew Bainer. Bainer? Spero che si pronunci così. Oggi con i nomi non va proprio bene. L'autore è lo showrunner della serie tv Mad Men, serie tv di altissimo livello, da poco terminata, una serie tv che ha fatto scuola, e che negli anni verrà ricordata come un vero e proprio gioiello della televisione. Questo è il suo primo romanzo. Il fatto che l'autore arrivasse dalla televisione mi rendeva un po' scettico, e aveva creato in me una sorta di pregiudizio. Ma leggendo questo romanzo, la sorpresa è stata gigantesca. Nonostante questo mese abbia letto romanzi di altissimo livello, questo è stato uno dei migliori libri che ho letto questo mese, e forse anche quest'anno. Vi racconto brevemente di cosa parla questo romanzo. È la storia di questa famiglia, la famiglia Braxton, una coppia di giovani altoborghesi, new yorkesi, con una figlia, chiamata per l'appunto Heather, che è una figlia perfetta, bellissima, con un carattere dolce, gentile, empatica, praticamente l'incarnazione di tutto ciò che può essere considerato buono e perfetto. Per quanto riguarda la coppia di genitori, sono, diciamo, la personificazione di quello che è il sogno americano, una coppia giovane, in carriera, ricca, e quindi la loro unione, il loro nucleo familiare, è tutto quello che chiunque desidererebbe dalla vita. Ovviamente, dato questo incipit, ci si aspetta che succeda qualche cosa che vada a rovinare questo idillio di perfezione. E, in un certo senso, questo qualcosa arriva, e potremmo riconoscerlo più che in una cosa, in una persona, in un personaggio chiamato Bobby, che invece non ha avuto la stessa fortuna di Heather, perché è un ragazzo che è nato in un contesto familiare completamente opposto, non conosce l'identità di suo padre, la madre è una tossicodipendente che lo ha fatto vivere in un contesto familiare violento e tutt'altro che sano, e quindi Bobby già dall'adolescenza entra ed esce di prigione. Bobby entrerà in contatto con la famiglia Braxton perché lavorerà come muratore nell'impresa idille che ristrutturerà il palazzo dove abita appunto la famiglia Braxton. Non vi dico altro perché il romanzo è molto breve, sono poco più di 100 pagine, ma nonostante questo, Venner è molto bravo perché, utilizzando la narrazione in diretta, riesce a raccontare molti fatti e molti eventi in poco spazio e quindi riesce a tenere un ritmo narrativo altissimo. In questo modo è un libro che potenzialmente si legge in pochissimo tempo, io l'ho letto in due ore scarse, proprio perché è un libro che ti sprona a scoprire che cosa succederà, perché è un libro che parte da una situazione perfetta e il lettore sa benissimo che non può concludersi con un lieto fine. Proprio per questo lo scrittore gioca tantissimo con le aspettative che il lettore ha e che, diciamo, albergano la mente del lettore grazie a suggestioni di film, serie tv o libri che ha sicuramente letto in precedenza. Questo è un romanzo che mi ha ricordato tantissimo un altro libro che ho letto quest'anno, ovvero Nina Nanna di Leila Slimani, l'ultimo premio concours, un libro di questa scrittrice francese molto brava, al libro che raccontava di questa babysitter che uccideva questi due bambini di una giovane coppia francese. Me lo ha ricordato perché per l'appunto c'è una descrizione di quello che può essere un figlio per una giovane coppia, di quello che significa avere un figlio e di quello che è la paura di perderlo. E infatti Ether, la loro figlia per questa giovane coppia, è tutto, come dice per l'appunto il titolo. La figlia prima di tutto, la figlia prima anche dei rapporti tra i due genitori. E quindi è interessante vedere come in realtà, è interessante vedere quindi come una situazione perfetta possa cambiare e possa diventare un vero e proprio incubo senza in realtà una vera causa scatenante. È un libro che fa riflettere, è un libro che consiglio assolutamente e che sono molto curioso di sapere se avete letto o se avete intenzione di leggere. Quindi, siamo arrivati alla fine di questa lunghissima carrellata sulle letture di novembre 2017. Io vi ringrazio di essere rimasti fino a qua. Qui sotto nell'info box trovate come sempre la lista dei libri che ho citato con i link Amazon. Ho attivato l'affidazione Amazon quindi se doveste comprare da quei link i libri che vi ho consigliato, una piccola percentuale, una percentuale veramente infinitesimale, arriverà a me. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete letto qualcuno di questi libri o se vi interesserebbe leggerli. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!